Con Leopardi e Gigli in prima fila, recanati allo specchio, i suoi tanti negozi chiusi, il suo centro storico quasi deserto, il suo ospedale ridotto proprio male, le sue periferie abbandonate e i suoi tanto altri ancora. È parere di molti, e noi lo riportiamo, che la città abbia bisogno di interventi in diversi settori. Come far crescere allora recanati? Quale momento più propizio per poter votare un centro-destra? Laddove abbiamo un governo, una regione, una provincia e tutti i comuni più grandi delle Marche, tutti allineati sul centro-destra. Se dobbiamo sognare, mai come in questo momento possiamo farlo. Abbiamo la forza dell'istituzione vicino, abbiamo la consapevolezza di avere un governatore delle Marche molto vicino al sottoscritto. Credi in lui, lui credi in me, sicuramente non mi farà mancare il suo appoggio laddove ne avrò bisogno. Da qui all'incontro con il voto, ancora notizie e commenti per orientare al meglio l'appuntamento con le urne. Intanto, cosa far memorizzare come richiamare l'attenzione del cittadino elettore? C'è da dare un cambiamento, e l'unico cambiamento è il sottoscritto. Dopo 15 anni di amministrazione, io ritengo che chiunque abbia avuto questa opportunità sono un po' logori delle idee e di quello che potrebbe dare a una città. L'entusiasmo è solo da una parte, la convinzione di poter dare una soluzione alternativa a ciò che è stato fatto fino ad oggi è solo da una parte. Centro-destra, e lo dico centro-destra, ma lo dico anche perché ci sono due splendide liste civiche che appoggiano in modo trasversale. Noi ci siamo, io sarò sempre in campo, io sarò con voi per risolvere i problemi che tanti cittadini hanno. Andiamo verso la fine di marzo, i giorni passano, i ferri si scaldano, i tre candidati sindaco cominciano a promozionarsi con i contatti umani e con i mezzi di comunicazione scritta e parlata. Sarà di sicuro un bel confronto elettorale tra avversari politici e non tra nemici.